Premio Nonnino, quest'anno ancora più significativo, si celebrano anche i 50 anni della rivoluzione della grappa, 50 anni di una decisione importantissima per la storia di un territorio, cosa ne pensa? Una cosa veramente molto bella, una genialità da parte dei nonnini, nonnino cambiare la grappa, far sì che questo diventi un brand mondiale, vuol dire avere successo ma avere anche grandi idee ed essere sempre focalizzati su un lavoro che diventa sempre più difficile perché ci sono i competitors. Un premio che abbina da sempre le eccellenze del territorio alle eccellenze della cultura. Ed è così, sono orgoglioso di questo che essendo friulano anch'io mi sento coinvolto.